Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo un piatto di clam di medievale, da un ricettario del XIII secolo. Potremmo 500 grammi di clam, 50 grammi di almoni, un'orange di alfa e un'olio di oliva. Poi le spezie, il ginger, il nutmeglio e il pepe lungo, e le erbe fresche, marjoram, parsley e menta. Prima riprendiamo le almoni. L'autore specifia di usare le almoni impilate. Quando le almoni sono finissime, li mischiamo con 100 ml di acqua e filtriamo il liquido con un caldo o un sèvolo. Obteniamo l'almoni, un ingrediente che abbastanza usato nella cucina medievale. Potremmo sostituirlo con l'almoni di almoni, ma gli ingredienti devono essere l'almoni, l'acqua e nulla di altro. I diversi tipi di almoni di almoni di almoni possono facilmente bruciare il piatto. Se non lo trovate e non avete tempo per inclinare le almoni con un mortaio o un ricettario, è meglio evitare questi ingredienti. Poi incliniamo il nutmeglio e il pepe. La quantità è a tuo gusto. Usiamo un quarto del nutmeglio e tre pepe lungo. Se non avete un pepe lungo, lo possono sostituirlo con un pepe comune nero. La ricetta è parte di un ricettario anonimo scritto in l'Italia del XIV secolo, una fondazione molto interessante per la cucina medievale. alcune ricette sono tradizioni e reinterpretazioni di un ricettario medievale scritto in latino, Liber de Coquina, ma c'è anche una buona parte dell'origenza. Ora puliamo il ginger e finalmente lo minchiamo. Puoi anche prenderlo nel mortaio, il modo più comune di usare il ginger nel medioevo. o, se preferite, puoi solo tagliarlo in due corti, che risolveremo prima del platoio. Poi prepariamo le erbe, risolviamo le letture di menta dalla twiglia e cortoccoliamo. facciamo la stessa cosa con il margarino. Poi ripetiamo il parsley. Se avete un parsley più grande e tendo come questo, non c'è bisogno di ridurre le stemme. Ora siamo pronti per cuocere le clamme. Poi mettiamo un po' di olio di oliva in un pote e aggiungiamo le clamme. Poi mettiamo l'almone e il ginger. Poi mettiamo il ginger. Quando tutte le clamme sono aperte, aggiungiamo l'almone e il pepe lungo, l'acqua di oliva e le erbe, il margarino, il mento e il parsley. Speriamo e siamo pronti per servire. Plattiamo le clamme aggiungendo un po' di oliva di mento, il margarino e il parsley. Questo piatto fresco e aromatico è un modo delizioso di ripetere i sapori del medioevo. A presto. 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 A presto.